Musica Ah io ho la pentola in mano La pentola? Sì sì Delle padellate Ogni qualvolta Will farà lo scemo e tirano la pentolata in testa Non l'avete vista Will? Ma Will c'è una skin Eccola La skin da carcerato Dove? Fa vedere Che schiavo No Anche a me lo vogliamo già mettere ragazzi Che epica Ma non ci credo è Pippo con la skin da carcerato Quanto ne abbiamo? Abbiamo 27 No 30 pezzi lavorati 13 lavorati Vabbè non devo bastare Tanto io poi prendo la mia file di slab Ragazzi se volete che io entro Volete fare voi perché c'è troppa gente Ma ormai un in più un in meno Una che cambia la vita Entrano che stai Per favore Che adesso io vedo se mi basta o meno All'usa Perché mettete il grano nella cesta del cibo Cos'è what the fuck is this Tutto raccolto Perché ho due carote io Sta facendo notte Adesso andiamo a dormire e poi registriamo Ragazzi ti inizia a registrare un episodio Facciamo l'episodio della farm Ok? Della farm di mob? Sì? Da che parte la facciamo? La facciamo a modo mio eh? Non come quella che ha fatto Ulisse Quella che ha fatto Ulisse Spawna nei mob tutto il giorno Quello che faccio io solamente di notte Ok 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 Quale preferite? Quella tua Quella tua Dai vai La facciamo qua dietro Anche la forma cambia di tutto Per cui No la facciamo Lontana di 20 blocchi Per cui E quindi sta direzione si potrebbe fare no? Dietro casa? Ma io non taglio e non velocizio Faccio come l'episodio mentre la costruisco Voi intanto magari due fanno il cibo Vabbè quella è Willa che annaffia Eh Prepariamoci la gara Io raccolgo In questo episodio Non c'è nulla da spiegare Mentre io costruisco e qualcuno mi dà una mano Dividiamoci Io Magari due continuano a fare legna Due fanno il cibo Vabbè io e Joe facciamo la legna dai Ok E me la portate dai Potete portarmi da voi Qualcuno mette a cuocere un po' qualcosa Oh no no Joe 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 Tu e vivi? Svelta Svelta Ci sono materiali eh Eh si dobbiamo fare Perché per fare Vita che bene che macello bro Per fare il video dopo Ci servono due emerald che ne abbiamo Ma due diamanti per fare il vocum Per fare il video dopo Andiamo fare la quest Quindi ci mettiamo a fare Gravel Grottugiamo E poi nella smelta cosa mettiamo Questi qua i broken ore Giusto? Ok Li mettiamo a fare tutti Andiamo a dormire dai Ma lo sai che gioco che mi devi spiegare Tutto vero? Ma l'uomo il cane bro Eh E che cazzo ma pagare i cani ogni volta? Quanti siamo? C'è Danny Dimmi che basta dimmi che basta No 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 Quanto ci vogliono E si 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 Quanto su otto Quindi smelt farm e legno Ok Eh ti avviene con me perché il primo episodio per lui Devo farlo pubblicizzarlo per cui Ti avvi da una mano alla costruzione Va bene Poi chiede che c'è di nuovo nessuno Mi ti caccio di centrale Che faccio? Dobbiamo fare le auguri a Joe E presentare il carcerato Will Basta a posto Ma Mi occhio Ehi Pippo Bene Allora io posso venire con te Raga andiamo Aspetta Andiamo Come vuoi Dai Come caspita No eh No eh Eh tutto al centro Secondo che non mi va Non mi parla Aspetta che devo richiudere il programma un attimo Ok Allora aspetta che riavvio il programma Apriti E' munno e mezzo Perché è munno e mezzo E' perché è pagata a bere Non mi piangio che la mosca cieca eh Giro giro tondo Casca il mondo Will No eh Will Questa è la palla che Delle catene che c'è ai piedi Sì la mela Allora Aspetta Che faccio partita così parti quando vuoi Sì ma io non ho aperto il programma in registrare un attimo Madonna me Aperto 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 A tutti ragazzi Sono più che Della madame Attia 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 Attia